I diversamente giovani discriminati per l'età. Una serata all'insegna dell'analisi delle problematiche degli anziani. E allora abbiamo ascoltato la voce di una giurista, qual è l'avvocato Gina Lupo, di psicologi, di esperti del settore, ma anche spazio alle associazioni, spazio ai più giovani, agli studenti che hanno voluto rendere il loro omaggio ai più anziani. Quindi le scuole protagoniste. Il momento del divertimento attraverso canzoni, battute di Franco Cosa. Insomma, una festa degli anziani a tutto tondo da vivere e godere insieme. Una bella iniziativa, davvero significativa, forse unica nel suo genere, organizzata dal consigliere di parità della provincia di Taranto, l'avvocato Gina Lupo.